A Fornia Voltri, a quasi 170 giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Pechino 2020 in compagnia di Didier Biona. Allora, avete iniziato qui un raduno in maniera particolare. Sono tutte le squadre qui che si ritrovano, però tu subito una partenza stop con un problema alla mano. Eh sì, un piccolo incidente di percorso durante l'allenamento dell'altro giorno. Sono tre punti di sottura, ma riusciamo comunque a fare degli allenamenti di corsa e a sparare. Quindi sono già contento di poter lavorare bene durante la raduna. Quest'anno la squadra A è stata spezzettata in due parti. Tu sei con Dorotea Wierer, Lucas Hofer, Dominic Windisch e ovviamente Tommaso Giacomeri. Perché siete i due giovani, com'è il clima in squadra e soprattutto se riesci a ottenere nuovi stimoli da questi veterani e grandi vincitori? Il clima è molto molto bello perché alla fine siamo un bel mix di giovani e più esperti e riusciamo comunque a stimolarsi a vicenda e a trovare tantissimi stimoli sia al tiro che dal punto di vista atletico. Anche al di fuori degli allenamenti secondo me si è creato veramente un bel clima che è indispensabile quando si sta via tanto tempo come facciamo solitamente noi durante i periodi di preparazione. E devo dire quindi che mi sto trovando molto molto bene. Si ride, si scherza sempre e c'è un buon umore generale. Adesso si sta preparando una delicata stagione, la stagione olimpica. Tu lo scorso anno hai per la prima volta fatto l'intera stagione di Coppa del Mondo. Che insegnamenti trai da questa tua prima esperienza? È un'esperienza che mi ha insegnato molto, soprattutto dal punto di vista di come vanno gestite le gare. Perché avendo tante gare ravvicinate è importante saper gestire bene le fasi di recupero e le preparazioni alle gare. E mi ha insegnato molto da questo punto di vista. Poi mi ha insegnato anche che per stare ad alti livelli devi sempre essere al top e sbagliare veramente poco. Perché il livello sta diventando sempre più alto. E' veramente molto difficile stare in mezzo agli altri atleti se non sei al top. Dicevamo che mancano 170 giorni alle Olimpiadi di Pechino 2022. Credo che questo sia un tuo obiettivo, quello di partecipare alle Olimpiadi. Hai dato uno sguardo alle grandi vittorie italiane in quelle estive invece di Tokyo 2020? Sì, abbiamo guardato abbastanza, tante gare, soprattutto in replica quando eravamo al raduno all'Avazè. Ma era stato molto bello perché alla fine era un momento in cui eravamo tutti insieme ed era bello comunque ti fare gli altri atleti che erano in gara. E qual è la gara che ti ha lasciato più il segno di queste Olimpiadi? Beh, i 100 metri di Jacobs sicuramente. L'abbiamo guardato insieme io e Lucchi e non ci credevamo quasi che fosse successo. Ok, quindi l'obiettivo per la prossima stagione comunque se ci sono, quali sono? Ma il mio obiettivo sarebbe quello di poter gareggiare di nuovo un'intera stagione in Coppa del Mondo. Sarebbe un obiettivo importante poter fare un'altra stagione per avere ancora più esperienza e poter crescere ancora. Poi c'è questo piccolo sogno delle Olimpiadi, però la strada è ancora lunga e bisognerà vedere. In generale spero comunque di riuscire ad avere un buon livello durante tutta la stagione. Penso che sia l'obiettivo più importante. Ok, allora invoca Lupo e muore Cupero. Grazie, crepi.